A chi viaggia spesso in aereo per lavoro o piacere sarà certamente capitato di rimanere molte ore in aeroporto attendendo uno scalo o per ritardi o cancellazioni dei voli, attese certamente stancanti nelle sale dedicate, accomodate alla meglio su sedie, divani o poltroncine. Adesso però dormire in aeroporto può rappresentare un momento di vero relax grazie ai capsule hotel, micro stanze dove si può riposare comodamente e nella totale privacy. Anche se la diffusione dei capsule hotel è recente, l'inaugurazione del primo risale al 1979 in Giappone. Attualmente è possibile trovarli in grandi scali internazionali e di diverse tipologie. C'è quello futuristico di Tokyo, quello nei container a Kuala Lumpur in Malesia oppure quello a 5 stelle di Parigi. In Italia i capsule hotel sono già presenti a Malpensa, Orio al Serio e presso l'aeroporto di Capolichino. Nello scalo partenopeo il capsule hotel si chiama Bembo, acronimo di Bed & Boarding e offre stanze di 4 metri per 4 dotate di letto, workstation e bagno privato con doccia. La reception è aperta 24 ore su 24 ma la prenotazione può essere effettuata anche tramite web o app. I prezzi sono assolutamente abbordabili, 8 euro la prima ora, 7 a partire dalla seconda, 25 euro per le 9 ore dell'intera notte.